Un passo avanti verso il debutto del nuovo redditometro che ormai sembra sempre più imminente. Era una delle richieste a cui il garante della privacy aveva chiesto di adeguarsi e l'Agenzia delle Entrate l'ha accolta e messa in pratica. Il 7.30 e le dichiarazioni dei redditi 2014 conterranno l'informativa sul possibile utilizzo dei dati per la versione 2.0 dello strumento di accertamento. Uno degli elementi che balza immediatamente agli occhi è l'assenza di riferimenti alla media Istat che porta a presagire un totale accantonamento dell'imminente campagna di verifiche. Per avere una conferma definitiva bisognerà attendere le istruzioni agli uffici che dovrebbero chiudere il cerchio e consentire l'invio delle 35.000 lettere ai soggetti selezionate per i controlli. L'informativa sul trattamento dei dati personali è stata messa a punto proprio per venire incontro a uno dei punti con cui l'autority di Antonello Soro ha dato il via libero allo strumento di lotta all'evasione, chiedendo però un restyling a tutela dei contribuenti. Il rilascio delle versioni definitive di alcuni modelli di dichiarazione, come per esempio il CUD e il 730, ha rappresentato l'occasione per adeguarsi. L'informativa ricorda infatti che il nuovo redditometro, che ricostruisce l'effettiva capacità contributiva in base alle spese sostenute dell'anno, si applica a partire dal periodo d'imposta 2009. Proprio per questo i dati personali presenti in anagrafe tributaria, nonché ottenuti tramite scambi di informazioni con altre autorità pubbliche e soggetti privati, conformemente alla legge, verranno utilizzati per l'attività accertativa. Resta il dato di fondo. Per il contrasto all'evasione fiscale ci vuole un impegno suppletivo e straordinario da parte del Governo e del Parlamento.